Salve a tutti, sono Emanuele e questo è iPhone Facile. Qualche giorno fa, Baby2008, una follower, mi ha chiesto di fare un video su come scoprire il numero delle persone che ci chiamano con l'anonimo. Beh, con iPhone e probabilmente anche con Android è facilissimo, basta scaricare quest'app, Vuming. Apriamola, registriamoci. A questo punto premiamo su Aggiungi. Inserite la vostra nazione, il gestore telefonico e il vostro numero di telefono. Adesso copiate questo numero nell'app telefono. Nello spazio vuoto, incolla, chiama. Clicca su. Allora, adesso siamo arrivati a questo punto. Non ci resta che chiamare il nostro numero di telefono con l'anonimo per completare la registrazione. Quindi prendete un altro cellulare, fate cancelletto 31 cancelletto e il vostro numero di telefono e chiamate. Il vostro telefono squillerà, cliccate sul tasto rosso per deviare la telefonata. E così il telefono sarà correttamente configurato. D'ora in poi chi vi chiamerà con l'anonimo potrà farlo tranquillamente, ma voi potrete scoprire il loro numero di telefono cliccando sul tasto rosso e aprendo l'app Vuming potete vedere il loro numero di telefono. Quindi cliccate su rifiuta, aprite l'app ed ecco il numero di telefono.